Nuova puntata quella di ieri dell'Irante Fratello, 19 ottobre 2023. Pensate che a finire in nomination sono state ben 6 persone, 6 concorrenti, 5 donne e un uomo. Le donne sono Grecia, Colmenares, Griselda, Beatrice, Luzzi, Rosi e Valentina. Per quanto riguarda l'uomo che invece finisce in nomination è il buon Vittorio. E' stata la dodicesima puntata quella di ieri, 19 ottobre 2023. Eliminata da parte del pubblico è stata la bella Samira che piange, o meglio che tutti i concorrenti piangono per lei, soprattutto il buon Giuseppe Garibaldi, che ovviamente rimane terribilmente scorso, turbato, dalla scomparsa o meglio dall'acida, dall'abbandono della casa della bellissima e sexy Samira. Ok? Quindi, ricapitolando brevemente, 6 persone vanno in nomination, 5 donne e un uomo. Le nominate sono Beatrice, Grecia, Griselda, Valentina e Rosi. L'uomo invece è il buon Vittorio. Ok? Per un totale di 6 persone. Ad abbandonare la casa è stata da Samira, la concorrenti. Iscrivetevi al canale narrato italiano e commentate. Ciao a tutti e una buona giornata a voi.